Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Viene colpito da un malore mentre guida, finisce contro un albero e poi muore Telecamera in viale 1 maggio, oltre 600 multe elevate per il semaforo rosso Piano triennale della cultura, Fano, occhi puntati sulla romanità La zona del campo d'aviazione è ormai terra di nessuno, qui ci vogliono le telecamere Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, apriamo con la cronaca Un uomo che a un certo punto, mentre stava guidando, ha accusato un malore Si è sentito male, è finito contro un albero e poi è morto Giuseppe Carugati, 51 anni, nato e residente a Como È morto questa mattina a bordo della sua auto A causa di un malore improvviso, mentre percorreva via Papiria in direzione Ancona-Pesaro L'uomo che per lavoro da qualche tempo si trovava in zona Era a bordo della sua Fiat Multipla alle 9.30 di questa mattina Quando, stando a quanto riportato da testimoni oculari Ad un certo punto ha iniziato a sbandare vistosamente Invadendo anche per alcuni istanti la corsia opposta Andando a lambire pericolosamente i parapedoni lungo il canale Albani Per poi rientrare bruscamente in carreggiata E schiantarsi contro una pianta ai lati della carreggiata Ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi Essendo già, al loro arrivo, in arresto cardiaco Momenti concitati e dopo le dovute manovre Non gli è rimasto altro che constatarne il decesso Nessun altro veicolo o altri soggetti sono stati coinvolti nell'incidente Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano Per mettere in sicurezza l'auto a gasolio Ora dopo l'ispezione cadaverica dove è stato appurato il decesso per malore Secondo le prassi di questi casi si attende il nulla osta dalla procura Per consentire di consegnare la salma ai familiari C'è stato un altro incidente senza gravi conseguenze In via della Fornace, sempre a Fano Due autovetture, per causa ancora da accertare, si sono scontrate intorno alle 13.30 In via della Fornace, angolo con via Monte Nerone Sul posto i carabinieri di Fano e i vigili del fuoco Il 118 che ha trasportato al pronto soccorso Uno dei due conducenti rimasto lievemente ferito Passare con il rosso Da dicembre ad oggi sono state 600 Le infrazioni commesse da automobilisti indisciplinati Chi abitualmente transita per Fano in entrata ed in uscita li ha notati certamente Sono sopra l'incrocio che porta al Lido sulla Nazionale Sono bianchi, grossi e quadrati Incommenti, sagome sulle teste di chi passa Hanno il compito di immortalare con le immagini che registrano Chi commette uno dei reati stradali più diffusi e deleteri in assoluto Attraversare l'incrocio col semaforo rosso Sono le sentinelle messe a guardia del semaforo in un incrocio Che negli anni ha sempre rappresentato un punto critico Nella circolazione cittadina Teatro spessissimo di disastrosi incidenti stradali L'autostop rileva le macchine che passano con il semaforo rosso Non con il giallo ma quelle che passano esclusivamente con il rosso E tra l'altro dopo che hanno attraversato di qualche spazio La linea d'arresto con il rosso Quindi rosso pieno L'utente della strada va incontro alle sanzioni previste dall'articolo 146 Del codice della strada Che di notte prevedono una sanzione di 217,33 euro E di giorno una sanzione di 163 euro Quindi in relazione proprio alla gravità del fatto Oltre ovviamente al fatto che il ripetersi della stessa infrazione Può comportare la sospensione della patente L'infrazione comporta comunque la comunicazione dei dati della patente del conducente Qualora non vengano comunicati ovviamente c'è un'ulteriore sanzione Le immagini che hanno registrato come ci dice il comandante Sono in alcuni casi raccapriccianti Quasi surreali Difficilmente si immagina che certe manovre Come svolte contro mano E rossi pieni presi dopo diversi secondi E bruciati a gran velocità in piena notte Possono essere compiuti da gente pienamente cosciente Difficile pensarlo ma reale alle volte Accade che però non sempre questa cosa la si può raccontare La Regione Marche ha approvato il piano triennale per la cultura E gli occhi sono puntati sulla romanità L'affano romana è tra le priorità della Regione Marche Lo ha dichiarato Renato Claudio Minardi Dopo l'approvazione avvenuta ieri in Consiglio regionale Del piano triennale della cultura 2017-2020 Un piano che ha come primario obiettivo Quello di coinvolgere tutti i soggetti interessati Istituzionali e privati Nella programmazione delle attività e degli interventi culturali Quali fonti di sviluppo economico, sociale e della Regione Tra le azioni prioritarie e la tutela del patrimonio marchigiano La conferma del finanziamento di 180.000 euro Per le annualità 2017-2018 per la manutenzione Il restauro e la valorizzazione del teatro romano di Fano Che è a pieno titolo tra i 10 progetti individuati dalla Regione Che sono in capo al Ministero Abbiamo anche sicuramente la valorizzazione del territorio Dal punto di vista della romanità Sono riuscito ad inserire con un emendamento Nel piano triennale la valorizzazione del teatro romano Per il quale il Comune di Fano sta facendo una permuta con i privati Che dovrà svolgere un ruolo importante anche nel percorso del progetto Che vede il Museo della Flaminia E quindi la valorizzazione della romanità Da Fano fino a Fossombrone, a Qualagna e Cantiano Per Fano ovviamente ci sono anche i riconoscimenti Non solo per la valorizzazione del teatro Con la conferma delle risorse per la valorizzazione del teatro Ma anche il riconoscimento per la rete lirica Realizzata dalla Fondazione del Teatro della Fortuna Il Fano Jazz Passaggi Festival E tutta una serie di altre iniziative Che sono importanti per la cultura Non solo di Fano ma dell'intera provincia E la provincia di Peso Urbino ha ricevuto 13 milioni Oltre 13 milioni di euro Per la ristrutturazione degli edifici scolastici Grazie al bonus scuola 2017 Lo ha riferito la vice capogruppo del PD alla Camera Alessia Morani Quelli del bonus sono stanzialmente che il Parlamento Ha riservato ai Comuni in deroga Al vincolo di bilancio per interventi sull'edilizia scolastica E la manutenzione del territorio La parlamentare del PD ha inoltre indicato Come saranno distribuiti i fondi La parte del Leone la fa il Comune di Vallefoglia Con 4 milioni e mezzo di euro stanziati 3 milioni andranno a Pesaro E 2 milioni e 4 a Montellabate A Fano andranno 736 mila euro Mentre a Cartoceto 318 mila Si è votata ieri sera in Consiglio Comunale a Fano All'unanimità la Costituzione della Commissione Speciale D'inchiesta d'indagine sulla gestione dell'aeroporto di Fano Presidente della Commissione È stato nominato Stefano Mirisola Appoggiato dai partiti di centrodestra Allora Mirisola di fresca nomina possiamo dire Sì, è un argomento che sta molto a cuore alla città E soprattutto anche al Consiglio Comunale Visto che è stato votato all'unanimità Di riuscire a costituire questa commissione di indagine Sulla Fano and Fortune Un risultato importante Il centrodestra unito mi ha nominato La mia nomina non sarà Avverto già in anticipo Non sarà di centrodestra Ma vorrò essere garantista Cercherò di ascoltare tutte le parti politiche Che saranno appunto il centrodestra Ma anche il centrosinistra e 5 Stelle Perché è giusto fare un fronte comune Per riuscire a dare delle risposte serie alla città Questa commissione era voluta da diverse parti politiche Comprese appunto Fano a 5 Stelle E insomma la sua nomina forse ha suscitato qualche malcontento Come mai pensa? Ma guardi sinceramente Io penso che sia stato fatto un buon lavoro Anche dalla commissione di garanzia e controllo Che è abbastanza similare Diciamo che qui possiamo fare qualche azione in più Un pochino più concreta Andare anche ad approfondire appunto alcuni argomenti Ma io penso che se c'è la volontà di reale Di riuscire a ricostruire come sono andati i fatti E riuscire a trovare le responsabilità politiche Penso che collaborare non è un problema Almeno per quello che riguarda me E penso anche il resto dei componenti Diciamo che a mio parere questa uscita di 5 Stelle È un pochino fuori luogo Anzi è anche un pochino azzardata In certi commenti anche abbastanza gravi Diciamo che sono sinceramente inutili Anzi io gli invito proprio a collaborare al massimo Come invito anche appunto il centro-sinistra A collaborare appunto per dare delle risposte serie E non attaccarsi perché non serve a niente Avete visto le immagini dell'aeroporto E poco distante c'è un'area Un'area che è praticamente una zona Che per incurie e degrado è diventata una terra di nessuno E insomma adesso sono in tanti, molti Non solo i residenti a chiedere Che lì vengano installate Le telecramere di videosorveglianze Sempre più cittadini Dopo i nostri innumerevoli servizi Nella zona dell'ex aeroporto Ci hanno contattati indignati Per le condizioni in cui versa quell'area Arbusti alti, assenza di videosorveglianza Zona isolata e non abitata Sono tutte condizioni predisponenti Ciò che nelle nostre immagini Vi abbiamo sempre raccontato Terra di nessuno e di conquista Per i furbetti della discarica Molti cittadini nelle loro rimostranze Ci hanno suggerito di invitare L'amministrazione comunale A liberare dagli arbusti alti Che spesso fanno da scudo agli ecovandali Con una radicale asportazione Così da consentirli nessun riparo Per le loro incursioni Osservazione che noi prontamente Abbiamo rigirato al destinatario L'assessore Cristian Fanesi Ovviamente ad atto vandalico fatto Noi chiamiamo Aset Con la loro collaborazione E noi direttamente cerchiamo Di ripristinare la situazione E seguiamo sempre queste situazioni Però faccio appello Affinché gli atti vandalici Nel momento si compiano Vengano segnalati subito Alle forze dell'ordine E alla Polizia Municipale Per se di competenza Perché almeno riusciamo Anche a correggere dei vizi brutti Voglio dire È un paradosso dire Che dobbiamo togliere i rovi Per evitare che vadano i vandali Noi togliamo i vandali In maniera che non vadano Poi comunque dovremmo intervenire Sull'area E lo stiamo facendo Anche attraverso Un progetto un po' più ampio Ovviamente Però ecco Non vorrei arrivare al paradosso Che bisogna togliere i rovi Per evitare che ci vandano i vandali No I vandali vanno Multati Colpiti Individuati Corretti E diciamo Prima che facciano Qualsiasi atto vandalico Non può essere la giustificazione Ci sono i rovi E quindi ci sono i vandali Non ci devono essere i vandali Sabato e domenica Si terrà la sedicesima giornata nazionale Dell'Unitalsi Allora Fra pochi giorni L'Unitalsi celebra Una giornata importante Una giornata celebrativa Ma anche di condivisione Si la sedicesima giornata nazionale Dell'Unitalsi Che avrà luogo sabato e domenica In tutte le piazze d'Italia Noi saremo qui nella diocese di Fano In tutte diciamo le città principali Da Fano fino all'entroterra Anzi quest'anno avremo anche delle piazze nuove Dove non siamo mai stati La chiesa di San Sebastiano a Bellocchi E Serravalle di Carde a Pecchio Perché siamo riusciti ad arrivare finalmente Fino agli estremi confini della diocesi E' una giornata importante Nella quale i volontari Offrono questa piantina di olivo In cambio di un'offerta Che servirà a finanziare Le attività dell'Unitalsi E in particolare la partecipazione Delle persone malate E' una pianta che ci rappresenta molto Perché l'olivo è il simbolo della pace Il ramoscello d'olivo Ma è anche una pianta che va curata Così come noi ci prendiamo cura dei malati E anche l'oliva Quando si mette a marinare Si dice si mette a curare Quindi è una pianta che ci rappresenta E che vorremmo che fosse in tutte le case Noi abbiamo assistito e curato per tanti anni Un malato Che è stato abbandonato da piccolo Perché quando i genitori sono accorti Che era gravemente disabile Lo hanno abbandonato E quando questo ragazzo è morto Sulla sua tomba Abbiamo piantato uno dei nostri olivi Purtroppo quest'anno Questo olivo è stato sradicato E è stato rubato dal cimitero Una cosa che ci ha ferito molto E anche perché Noi teniamo la dignità dei malati Sia da vivi Ma anche da morti E allora Vogliamo ripiantare l'olivo su quella tomba E vi chiediamo Se non volete proprio acquistarlo Di fare un'offerta ai volontari Queste offerte comunque andranno Per la dignità dei malati Venerdì alle 10.30 Nel Salone Metaurense Della Prefettura di Pesurbino Si terrà una cerimonia In occasione della giornata Dell'Unità Nazionale Della Costituzione Dell'Inno e della Bandiera Per questo il Prefetto di Pesurbino Pizzi Ha rivolto un caloroso invito Agli studenti Degli istituti superiori A partecipare numerosi Dare più forza al territorio Organizzare iniziative In maniera più strutturata E far conoscere meglio Le tradizioni e le bellezze storiche Con questo obiettivo È nata la Proloco di Secchiano di Cagli Preseduta da Francesco Renga L'insediamento è avvenuto Nei giorni scorsi Alla presenza del Presidente Del Comitato Provinciale Umpli Damiano Bartocetti Che ha evidenziato Come la nascita di una Proloco Sia motivo di grande soddisfazione Giovedì Giovedì alle 12 Nella sede di Fano TV Si terrà un incontro Tra il responsabile tecnico Dell'azienda Operatore di Rete E gli antennisti Di Fano e dintorni Per fare il punto Sulle problematiche Legate al passaggio Di Fano TV Al regionale Gli antennisti Che intendono prendere parte All'incontro Potranno recarsi Presso la sede dell'emittente Domani, ripeto Giovedì a mezzogiorno In via Paolo Borsellino 4 Naturalmente a Fano E con questo Si chiude qui Il nostro telegiornale Grazie per averci seguito A voi tutti gli auguri Di una buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie.